Qualcuno vuole fare una foto dopo? Perfetto Allora chiedo scusa per chi vuole fare la foto la fila è da sinistra, si sale sul palco e si scende da destra tutte le persone che sono qui non possono salire per favore, si sale da sinistra e si scende da destra grazie Io riprendo a fare le foto se fate due metri indietro è inutile sudare come bestie per arrivare a fare la foto un minuto prima anche perché ci sono dei bimbi e delle signore Non la voglio fare lunga anche perché immagino che qualcuno di voi sia a fare due parole fare una foto e quindi mi fermo qua Qualcuno vuole fare una foto dopo? Perfetto Allora chiedo scusa per chi vuole fare la foto la fila è da sinistra, si sale sul palco e si scende da destra tutte le persone che sono qui non possono salire per favore, si sale da sinistra e si scende da destra Grazie 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 So chiedervi cortesemente scusate scusate io riprendo a fare le foto se fate due metri indietro è inutile sudare come bestie per arrivare a fare la foto un minuto prima mi fermo in questo teatro fino a che non ho salutato l'ultimo di voi Quindi secondo me se fate un metro indietro e vi sedete Magari aspettate 5 minuti in più ma non cambia nulla Anche perché ci sono dei bimbi e delle signore Quindi ve lo fate a partire da là, tre passi indietro Vi fate tre passi indietro, i piedi qua, tre passi indietro Di là, tre passi indietro Grazie